Perdonatemi se sono in treno, però non possiamo non commentare questo risultato straordinario che ha ottenuto Donald Trump, che è il 47esimo presidente degli Stati Uniti. Ha conquistato i suoi 276 elettori, sapete che ne bastano 270. Un risultato che per i sondaggisti è un risultato totalmente inaspettato, per i media, per questa stampa che ha fatto una campagna continua di demonizzazione nei confronti di Trump e davano per vincente, senza sé, senza ma, una camala o quantomeno sul filo di lana. Quanto abbiamo sentito dire o letto sui giornali in questi giorni, il distacco è piccolissimo, insomma ci sarà da aspettare molto perché sarà difficile riuscire a distinguere chi può aver vinto o no fino all'ultimo voto. Invece questa mattina, molto presto, già intorno alle 5 della mattina, ora italiana, già si sapeva perfettamente che sarebbe stato Trump il vincitore assoluto. La cosa che dobbiamo analizzare è che Trump è riuscito a convincere quelli che erano i sette stati indecisi determinanti, è riuscito ad andare a cogliere, a captare la classe, diciamo, moderata. Si diceva che la classe moderata sarebbe stata pannaggio della Harris perché lui, con questo modo, irruento sicuramente molto forte, non riusciva a cogliere le simpatie. Ha preso i voti della parte ispanica, quindi gli immigrati, gli immigrati regolari sul territorio americano, hanno dato fiducia a Trump e soprattutto alla sua linea molto ferma e molto determinata di contrasto all'immigrazione irregolare. Ha preso quelle donne, le donne si diceva, le donne non lo voteranno mai perché la sua linea anti-abortista, comunque contro, non porterà voti delle donne e così non è stato. È stato veramente, si può dire, un plebiscito, una riconferma senza se e senza ma e ci sono. Io vorrei andare, più che analizzare i meriti di Trump, a cercare di capire quali siano stati i demeriti per una debacle così da parte della favorita Harris. Quindi è una debacle chiaramente di tutta la sinistra, c'è una continuità nel messaggio che stanno dando a questo punto, si può dire, in tutto il mondo, non solo in Occidente, nella parte europea, quindi non solo l'Europa che vira a destra, ma oggi anche l'America ci sta dicendo che la tendenza continua. Quali sono i cinque, io ho identificato un po' i cinque punti di demerito della Harris che vorrei analizzare con voi. Il primo, semplicissimo, non era un candidato all'altezza, mancava di sicurezza e di preparazione, ma questo si è visto in molte circostanze pubbliche. Al di là dei comizi, quelli, voglio dire, i suoi preparati, dove mostrava una certa sicurezza, quello che diceva, quando si trovava a dover affrontare anche delle interviste fatte da giornalisti con domande estemporanee, devo dire che si è sempre trovata in grande difficoltà, quindi non aveva una preparazione che gli è stata riconosciuta come tale per poter diventare presidente degli Stati Uniti. Secondo punto di demerito, sicuramente, o comunque seconda motivazione, il record negativo dell'amministrazione Biden-Harris. C'è stata una domanda durante un'intervista che l'è stata fatta, hanno detto che lei avrebbe cambiato qualcosa rispetto a Biden in questi quattro anni, la risposta è stata non so, non saprei. Quindi questo dimostra che ha accettato tutto quello che ha fatto Biden, quindi sarebbe stata una sua copia, una sua totale controfigura. Ed evidentemente gli americani non sono così soddisfatti di questa amministrazione che c'è stata al punto di non ridare lui e quindi lei, in sostituzione, questa fiducia. Poi non dimentichiamo che un fattore determinante è anche la personalità di Trump. La personalità di Trump è dirompente, Trump ha quel quid più, Trump è quello che dopo che ha subito l'attentato, che sanguinante si è alzato col pugno, fight, fight, ha detto forza, l'America si rialza. Ecco la metafora di quello di cui hanno bisogno gli americani, hanno voglia che l'America si rialzi, si rimetta in piedi, un'America in ginocchio. E lui è la rappresentazione di questa forza. Ci sparano, cercano di ammazzarci, ci vogliono far fuori, ma noi siamo l'America, noi siamo la forza, noi ce la facciamo. Poi l'America ha sempre bisogno di un suo eroe, di un suo mito. E quindi questa immagine trampiana di forza, di risalita, messa al paragone di un presidente ormai che insomma non ce la faceva più completamente e andato in sua vice, diciamo in sostituzione, la sua vice che in questi quattro anni non ha determinato nulla nella politica americana, è stato un fattore sicuramente che ha contribuito a questa vittoria schiacciante. Un altro punto è questo, Reagan diceva questa frase stavi meglio, cioè stai meglio ora di quanto tu non lo stessi quattro anni fa? Una domanda semplicissima, ma dice tutto. Tu ora, con la mia gestione dopo quattro anni, stai meglio? Se stai meglio mi ridai la fiducia? Se non stai meglio, a questo punto non me la dai. Ecco evidentemente a questa domanda che si sono posti gli americani si sono risposti no, non stiamo meglio. Perché vedete, ci sono quattro punti fondamentali che interessano agli elettori, in questo caso parliamo di elettore americano, che sono dei temi cruciali. E se il candidato non risponde in maniera concreta e convincente a questi temi, non prende la fiducia. Questi temi sono i temi dell'economia, quindi l'economia, l'inflazione schiacciante, 24% dell'incaro in America dei prezzi, quindi questo, cioè vuole capire come può spendere i suoi soldi, come può arrivare a fine mese, quindi un tema fondamentale è capire quanti soldi hanno poi nella tasca le persone. E l'altro tema è il tema legato alla sicurezza, legato all'immigrazione, l'immigrazione clandestina, l'immigrazione illegale, che è quindi legata a un tema di criminalità, che è un altro tema che sta fortemente a cuore, anche ha dimostrato gli americani, quindi una figura come Trump, che ti dice anche in maniera molto ferma, noi non arretterremo di un passo sul contrasto all'immigrazione illegale e faremo ripartire l'America, l'America che tornerà a splendere, l'America che ripartirà, ecco quel turbo capitalismo, e sapete insomma che se parte l'America poi va bene l'America, va bene per tutti noi. E quindi gli americani hanno guardato questo, gli americani hanno penalizzato una politica di sinistra, ma come l'abbiamo vista anche in Europa, della Harris, quella politica ideologica che parla del clima, che parla dei diritti civili, che ci sono anche i diritti civili, ma vengono dopo i diritti civili. Tu non puoi basare tutta la tua campagna elettorale sul discorso dell'aborto, che è un tema che indubbiamente sta a cuore le donne. Io sono la prima a dire che è stata una conquista enorme per le donne il diritto all'aborto, però non ci puoi fare una campagna elettorale, perché è un tema che scuote le singole coscienze, le singole sensibilità, non è un tema nazionale, come può essere il tema dell'immigrazione, della sicurezza, dell'economia. E allora è appuntato su questo, e la cultura woke, politicamente corretta, evidentemente gli americani hanno detto basta, non ce la facciamo più. Questi sono i temi sostanziali e fondamentali per i quali la sinistra ne è uscita completamente schiacciata. Oggi si apre un capitolo importante. Un capitolo importante, io aggiungo anche un altro elemento, che non è da sottovalutare, perché l'elemento della guerra e sapere che comunque Trump possa essere l'unica persona, se ne ha la volontà di farlo, di poter fermare la guerra, con la paura che c'è, con quello che determinano le guerre nel mondo, è stato un altro fattore enorme e determinante, perché voi sapete, del motivo per il quale si dice che oggi esulti Putin, se lui decide da quando si insedierà a dire noi non formiamo più un'arma a Kiev, è chiaro quello che succederà. Potrà andare a fare la mediazione, a mediare in Medio Oriente, parlare con Netanyahu. Lui l'ha detto, io voglio fermare le guerre. Non a caso è il presidente, meno guerra fondaio che c'è stato nella storia, perché nei suoi quattro anni della precedente presidenza non ha fatto una guerra, quindi è per la pace. Oggi c'è voglia di respirare pace, perché siamo minacciati costantemente dalla paura di una terza guerra mondiale e dal ricasco economico che queste guerre ci stanno portando in casa. Altro elemento che non dobbiamo sottovalutare è che chiaramente Trump è il secondo mandato, c'è il limite dei due mandati, quindi non sarà in futuro ricandidabile e quindi non farà una politica di consensi, che cercherà i consensi, non ha bisogno di trovare consensi che gli possano servire per un secondo mandato. Quindi oggi, se come confermato ha sia la Camera che il Senato, quindi il Parlamento dalla sua, lui presidente non in cerca di consensi, sicuramente può mettere in campo una politica dirompente, una politica estremamente forte e lasciare una grande impronta. Quindi insomma, guardiamo. Io non ho mai negato il mio endorsement tra di me e me di Trampiano, quindi sono sicuramente curiosa e devo dire la verità anche molto contenta di come abbiano scelto gli americani.